Un cordiale saluto dalla redazione di Trebimetro.com. Domenica ancora all'insegna dell'alta pressione nordafricana, con tempo in prevalenza ben soleggiato su gran parte della penisola e clima ancora molto caldo. Da segnare però che l'invecchiamento della struttura anticiclonica favorirà una maggior presenza di temporali pomeridiani a partire dai settori alpini, in locale estensione anche a prealpi e pedemontane. Il dettaglio termico vede temperature minime, stabili o in lieve ulteriore aumento, con punte fino a 26-27 gradi sulle aree costiere. Le massime saranno anch'esse in un nuovo ulteriore aumento, soprattutto sulle regioni tirreniche, con punte fino a 38-39 gradi tra Lazio e Toscana, ma anche 37-38 gradi in Valpadana. Il dettaglio previsionale per le regioni del nord ci mostra una giornata ben soleggiata su coste e pianure, un po' di nubi in più, soprattutto sulle zone alpine e prealpine, a partire dal pomeriggio con sviluppo di qualche equazione o temporale a carattere sparso che poi potrà estendersi anche alle aree prealpine e pedemontane, soprattutto del Piemonte. Al centro invece giornata ben soleggiata su tutti i settori, con anche pochi annuvolamenti di urni pomeridiani in montagna. Al sud infine ancora una bella giornata di sole su costi, pianure e settori montuosi, da segnalare soltanto qualche addensamento sul rilievi dell'Etna e lungo la dorsale, ma senza fenomeni significativi. Bel tempo per tutto il giorno anche in Sardegna.